Il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, ha ribadito la sua opinione in merito all'aumento di nuovi contagi Covid nella nostra regione. Io ritengo, dice, che la vaccinazione su base volontaria in Italia abbia avuto un effetto positivo. Poi, su quanto dura la vaccinazione, su quanto gli anticorpi restano nei vaccinati, sull'importanza di quanto è stato realizzato nella vaccinazione contro la pandemia, non sono io a dirlo, ma i dati scientifici. È una preoccupazione che c'è anche in virtù delle stagioni passate. Quindi io tendo a non voler sottovalutare nulla, cerco di vedere oggettivamente l'annamento del numero dei positivi e l'impatto del numero dei positivi sulle strutture ospedaliere. La crescita delle terapie intensive, la crescita dell'area medica, ma tengo anche sotto stretta osservazione la crescita del numero dei positivi vaccinati rispetto a quelli non vaccinati. Perché è un elemento, ieri qualcuno mi ha detto, ma lei allora vuole mettere in discussione? No, io non voglio mettere in discussione niente. Io leggo i dati e cerco di capire quello che sta accadendo. Perché la pandemia è una situazione completamente nuova per tutti, che spesso ci ha smentito da un giorno all'altro, che spesso da una fase all'altro la stessa pandemia ci ha fatto cambiare idea e opinione. Quante volte, no? Dal febbraio del 2020 siamo stati costretti, non noi direttamente, ma tutti a ritrattare un aspetto che sembrava a voi tanto certo. Allora, cerchiamo di gestire in maniera oggettiva questa fase, cerchiamo di vedere quello che realmente accade e cerchiamo di farlo con intelligenza. perché riuscire a tenere sotto controllo la pandemia significa riuscire a non richiudere, significa riuscire a non mandare le persone all'ospedale, significa riuscire a tenere un livello anche di ripresa elevato e di sicurezza della salute pubblica. Quindi questi aspetti secondo me sono prioritari rispetto a visioni che a volte a me sembrano un po' ideologiche. Ideologiche significa prendere un teorema e sposarlo fino alla fine. A me piace leggere ogni giorno i dati e cercare di capire quello che questi dati ci dicono. La situazione a novembre del 2020 non è paragonabile, secondo il governatore delle Marche, con quella del novembre di quest'anno ed è stato chiaro l'impatto del vaccino, non del Green Pass. Io confermo, dichiara Acquaroli, che l'effetto del vaccino sulle terapie intensive, sull'area medica e sui contagi è sicuramente un effetto molto importante. Invece, aggiunge, lo strumento del Green Pass e a mio avviso lascia dei dubbi, perché è usato per incentivare una vaccinazione che stava comunque funzionando.